Condizioni di alta pressione su gran parte dell'Europa continentale sul Mediterraneo, nessuna variazione significativa è attesa nei prossimi giorni. In Toscana, mercoledì 28 settembre, sereno poco nuvoloso, venti lungo costa in regime di brezza, deboli in prevalenza orientale in mattinata, tendenti a disporsi da maestrale nel pomeriggio, sulle zone interne deboli variabili, mari tra calmi e poco mossi, temperature stazionarie con ampia escursione termica tra il giorno e la notte. Sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 12, massima 26 gradi, in Versilia e sul litorale minima 16, massima 22, in Garfagnana e zone montane minima 9, massima 25 gradi, giovedì da poco nuvoloso fino a nuvoloso in serata, temperature in lieve calo. Grazie a tutti!